Massimo Stano è in testa insieme a due, quattro, altri sei, altri sei compagni di fuga in questa venti chilometri di marcia in quel di Sapporo per queste Olimpiadi 2020. Subito Ruggeri perché intanto la marcia di venti chilometri, la situazione è in testa, abbiamo Massimo Stano, Maurizio che è lì, è lì. 9.42 ma quello che sta succedendo è che stanno cedendo i cinesi per l'allungo di Massimo Stano, reagiscono solamente i giapponesi. Massimo Stano ci sta provando, anche lui, in questa magnifica atletica leggera che ci sta regalando tantissime soddisfazioni. E mancano a questo punto meno di due chilometri e forse, forse se si continua così possiamo sperare in una medaglia preziosissima. Massimo, vai Massimo, atleta delle fiamme oro, classe 92, come Jacobs. Palo del Colle, in provincia di Bari, Massimo Stano se la meriterebbe questa medaglia d'oro perché lui che ha tirato dalla... Massimo Stano sta andando verso la medaglia d'oro. Arriva il settimo. E' schiacciata la ripresa, non riesco a vedere bene. Se ne prendi, se ne va, se ne va, se ne sta andando, da mollato che, da mollato. Se ne sta andando Massimo Stano, verso l'oro, verso la medaglia d'oro, sarebbe la terza nell'atletica leggera. Massimo Stano è medaglia d'oro nella venti chilometri di marcia e siamo a te, grande Massimo. A voi Guido, non ne ho più. Calma, calma Massimo, tranquillo lì, tranquillo lì che ci siamo. Massimo Stano, con il traguardo in vista. Manca poco ai noci. Andiamo signori. Sul filo dell'R21, Italia ha la medaglia d'oro, Massimo Stano. Sono veramente soddisfatto e contento perché sono arrivato qui non in ottime condizioni. Ho avuto un piccolo infortunio un mese e mezzo dagli Olimpiadi, ma abbiamo cercato insieme allo staff perché la vittoria è dello staff. Da solo non si può vincere, solo con un grande allenatore, un grande fisioterapista e tutto lo staff che ci circonda, il gruppo con cui ci si allena. Sono veramente contento. Non so quando capirò cosa ho fatto. L'Italia quest'anno sta andando davvero forte. Il calcio, poi Jacobs che vince i 100 metri, Tambeli sono in alto in 10 minuti. Sono entrambi del mio team e al mio team manager ho detto non c'è due senza tre. In Italia si dice così, non c'è due senza tre. Massimo Stano è medaglia d'oro nella mente i club di marcia e siamo a te, grande Massimo. A voi Guido, non ne ho più. Sul filo dell'R21, Italia ha la medaglia d'oro. Massimo Stano! Grazie a tutti!